Ciao, sono Marco e ho deciso di titolare il video di oggi Never Give Up Never Give Up, mai mollare Voglio regalarti questo video oggi perché viste alcune presenti, passate, mie esperienze personali ho deciso di darti l'opportunità, darti la giusta motivazione a te che magari oggi sei lì lì che stai per mollare sei lì lì che stai per dire ma sì, questo mio progetto, questo mio obiettivo è lontano, non lo raggiungerò mai sono lì per dirti, sono qui per dirti, continua, non mollare mai perché il vero fallimento avviene se tu molli, se tu lasci il colpo, se tu non continui ok, spesso questa frase viene infatti associata, se ci pensi, ai pugili viene associata nell'ambito dello sport nel senso dove è richiesto, spesso perché viene associato un po' così per, diciamo, per immagine viene associato allo sforzo estremo, viene associato quella marcia in più quello stimolo in più, quella forza in più che devi mettere fino allo sfinimento per poter arrivare primo, per poter vincere, per poter raggiungere il tuo obiettivo raggiungere il traguardo, oppure raggiungere il K.O. dell'avversario mettere K.O. l'avversario, ecco perché si usa spesso come terminologia sportiva però questa terminologia, questo modo di dire è applicabilissimo in tutti i settori della tua vita quindi se stai cercando di conquistare quella persona se stai cercando di ottenere quel posto di lavoro se stai cercando di ottenere quel voto a scuola che non sei riuscito a ottenere se stai cercando di far arrivare a ottenere successo magari nel business che ancora non hai ottenuto, io ti dico e ti invito non mollare, mai mollare, fa in modo di non lasciare lì la presa di non lasciare lì il colpo c'è un'immagine che a me piace sempre vedere e che guardo anche personalmente un pochettino per stimolarmi e fa vedere questa immagine che vedrai qui sopra in pressione fa vedere due minatori e fa vedere come il minatore sia a un passo veramente sia arrivato a 10 centimetri da quella che è diciamo la miniera di diamanti e come il minatore decida di tornare indietro quando era a un passo ma lui non lo sapeva perché lui stava scavando probabilmente da ore, stava scavando da giorni e ha deciso a un certo punto di mollare il colpo ha deciso che probabilmente non era più il caso andare avanti e pensa soltanto a 10 centimetri di lavoro c'era il suo obiettivo quindi anche se per ora quello che stai facendo non sta funzionando non sta portando i risultati che speravi non è ancora arrivato e se hai gente, se hai tutte le persone incontro che ti dicono lascia perdere, lascia stare io invece sono qua per dirti mai mollare come ho detto in un sacco di video presenti sul mio canale che ti consiglio di andare a vedere ho iniziato personalmente la mia carriera lavorativa come dipendente quindi sono una persona che fondamentalmente è partita da sotto zero perché non avevo conoscenze, non sapevo niente venivo da una famiglia di lavoratori dipendenti quindi per me l'imprenditoria era tutto un settore da cui stare alla larga da cui nemmeno metterci i piedi dentro perché le tasse, perché ti rovinano perché qui, perché di, perché là ho deciso di studiare, imparare, fare le mie esperienze e ho deciso che i miei obiettivi erano quelli di un giorno arrivare ad avere una o più aziende e ci sono arrivato non senza sacrificio, non sto dicendo questo però ho attraversato periodi in cui stavo dicendo chi me l'ha fatta fare periodi in cui io stavo per dire ma forse ne vale la pena continuare o vale la pena piantare lì vale la pena lasciare, abbandonare poi spesso quando sono, quando capitano questi periodi bui quando capitano questi periodi dove stai per lasciare il colpo a me personalmente è sempre arrivato qualche piccolo segnale qualche piccola cosa che mi ha fatto dire no, mai mollare mai mollare d'accordo? quindi continua, continua, continua a fare quello che stai facendo cerca di migliorare, cerca di capire se effettivamente non stai facendo un buco nell'acqua certo è inutile, è sbagliato in altro modo accanirsi su una cosa che sappiamo che non darà nessun risultato d'accordo? però abbiamo modo, abbiamo i mezzi oggi abbiamo gli strumenti per capire se quello che stiamo facendo può portare i risultati sperati oppure no abbiamo i metodi per capire se quello che stiamo facendo vale la pena continuare a farlo oppure no se ne vale la pena continua, non mollare mai e non lasciarti prendere da tutti quei pensieri negativi da tutte quelle persone intorno che ti dicono che non ce la farai che non raggiungerai le cose libera la tua mente prenditi un attimo svuota la tua mente pensa a perché hai iniziato che cosa volevi raggiungere quando hai iniziato che cosa hai deciso di fare perché, qual è stata la tua motivazione d'accordo? pensa alla parola motivazione quindi qual è stato il motivo che ti ha portato a compiere quelle determinate azioni quindi qual è stata quella cosa quella molla che ti ha fatto dire bene, partiamo con questo progetto partiamo con questa idea voglio raggiungere questo scopo voglio raggiungere questo traguardo d'accordo? e se anche sei in un periodo di fatica in un periodo che è in salita d'accordo? non devi mai mollare il successo sta dietro l'angolo e soprattutto il successo sta dietro a quelle persone che hanno deciso di andare avanti d'accordo? è inutile che ti sto a raccontare che i più grandi famosi tipo Walt Disney o tipo Bill Gates per esempio hanno contattato mi pare Walt Disney ha contattato circa 100 banche prima di ottenere il finanziamento che ha fatto iniziare il primo parco e 99 banche avevano detto no avevano detto non crediamo nella tua idea non funzionerà lui non si è fermato ha continuato fino alla centesima la centesima gli ha detto di sì oggi è inutile che ti stia a raccontare che è Walt Disney d'accordo? quindi non davvero non mollare mai la presa non fare in modo che la parte negativa della tua mente i pensieri negativi affollino la tua mente libera la tua mente non mollare mai e continua solo così potrai raggiungere quello che stai cercando di ottenere nella tua vita io davvero mi auguro che questo video sia d'aiuto per te e spero che tu riesca a ottenere davvero i risultati che speri inoltre appunto ci tengo a fare a precisare che voglio che questo video sia per te un mantra che tu possa ascoltarlo tutte le volte che vuoi tutte le volte che pensieri negativi possano affollare la tua mente perché puoi davvero arrivare dove vuoi d'accordo? nessuno nasce o cresce limitato nessuno tutti possiamo raggiungere ciò che vogliamo nella nostra vita l'ostacolo tra noi e il raggiungimento dipende soltanto da noi d'accordo? quindi soltanto da quello che decidiamo che da tutte le circostanze d'accordo? ok? che poi le circostanze sono l'alibi l'alibi per le persone che dicono eh ho provato ma non ce l'ho fatta d'accordo? quindi le circostanze non devono essere un alibi le circostanze devono essere esistono capitano a tutti a chiunque non pensiate che le persone di successo non abbiano avuto circostanze quindi non abbiano avuto la mamma che stava male non abbiano avuto parenti che sono mancati non abbiano avuto magari non so incidenti o abbiano avuto imprevisti durante tutta la loro strada che cosa hanno fatto? malgrado le circostanze hanno continuato hanno deciso di non mollare mai quindi questo famosissimo never give up ok pensa che quello che sta tra te e il tuo successo e il tuo risultato sia un match appunto del bugilato come ho detto prima fa in modo di stendere di mettere capo l'avversario di non farti mettere capo tu fa in modo di raggiungere quello che vuoi perché tu puoi perché tu puoi puoi arrivare dove vuoi puoi ottenere ciò che vuoi puoi diventare la persona che hai sempre desiderato di essere devi solo volerlo e non devi mai mollare qualunque esso sia qualunque sia il tuo sogno qualunque sia il tuo obiettivo d'accordo? fai in modo che nessuno le persone fai in modo che le circostanze fai in modo che tutti quanti gli eventi che ti si pongano davanti non siano per te un freno d'accordo? e se davvero ci credi se davvero vuoi fare in modo che il successo arrivi nella tua vita che tu raggiunga il tuo traguardo non devi mai mollare devi sempre continuare a fare quello che hai sempre fatto solo così potrai raggiungere il tuo obiettivo io mi auguro davvero per te che tu possa raggiungere i tuoi obiettivi e spero che come ho detto questo video sia utile per te e che tu lo possa riascoltare tutte le volte che vuoi se comunque c'è qualcosa di cui vuoi parlarmi e qualcosa di cui vuoi dirmi scrivimelo qua sotto nei commenti di modo tale che possiamo magari trovare spunti per altri video oppure parlarne insieme semplicemente aiutare anche altre persone che magari sono lì che stanno per mollare quindi mi raccomando qua sotto nei commenti e comunque se questo video ti è piaciuto metti mi piace attiva la campanella qua sotto e seguimi nei prossimi video ciao